Gentili telespettatori, buona giornata. Anche Laura Boldrini dice siamo arrivati anche a questo? A cosa? Sta parlando dell'accordo Italia-Albania. Dice proprio così la Boldrini in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. Dice e siamo arrivati anche a questo. In che senso, scusi? Andiamo a vedere. Siamo arrivati all'ammissione del totale isolamento dell'Italia in Europa. Beh, bugia. L'Italia non è isolata in Europa, per niente. All'estero, fuori dall'Europa, dicono che la persona più influente che tira i fili in Europa è proprio la Meloni. Quindi quando i sinistri dicono che l'Italia è isolata in Europa, suona il tastino, bugia, bugia. Prima cosa che ha detto la Boldrini, subito una bugia. Avete notato che la sinistra oggi costruisce le sue disquisizioni filosofiche sulle bugie? Perché se fossero sulla realtà non saprebbero che dire. Totale isolamento dell'Italia. Ma è falso. E poi aggiunge, perché magari poi suona anche il pulsante vero, e vediamo. Io se è vero ve lo dico. Aggiunge, il governo Meloni, abbandonato dai suoi stessi alleati sovranisti e in cerca di qualsiasi riscontro sulla gestione dei flussi migratori, arriva a chiedere aiuto all'Albania facendo leva sul desiderio di questo paese di entrare nell'Unione Europea. Allora, abbandonato dai suoi stessi alleati sovranisti, spieghiamo a Laura Boldrini che il sovranista per definizione è quello che pensa prima al proprio paese e poi agli altri. Quindi non potrai mai convincere un paese sovranista a prendersi i clandestini che tu fai entrare nel paese. Quindi la Meloni ha sempre detto, io al loro posto farei lo stesso. Cioè oggi se l'Italia fosse al posto di uno dei paesi che non fa entrare i clandestini via mare, oggi se all'Italia chiedessero prenditi automaticamente i clandestini che io faccio entrare, l'Italia direbbe come Orban e gli altri sovranisti direbbe no. Quindi quello che è abbandonato dai suoi stessi alleati sovranisti è un'ovvietà, non è un'accusa. È ovvio che il sovranista fa il sovranista anche con gli amici. Giusto? Ok, andiamo avanti. L'Italia chiede aiuto all'Albania facendo leva sul desiderio di questo paese di entrare nell'Unione Europea. Ma questo è vero. Questo è vero. L'Albania sta dando questo aiuto all'Italia, visto che l'Italia è il principale sponsor delle entrate in Europa dell'Albania. Chiaro? Bene. E così, dice la Boldrini, il Presidente Edi Rama, il Presidente del Comitato Permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, accetta di ricevere sul suo territorio i migranti soccorsi in mare dalle navi dei corpi dello Stato italiano, Guardia Costiera, Marina Militare e Guardia di Finanza, e di trasferire i naufraghi in appositi centri di detenzione che verrebbero costruiti dall'Italia e che dalle prime anticipazioni sembrerebbero sotto giurisdizione italiana e gestiti da personale italiano. Bene, la Boldrini ci sta facendo la spiegazione di quello che è. Ma questa spiegazione non mi sembra che voglia far capire che sia tutto così mostruoso. Quest'ultima parte che ha raccontato la Boldrini è corretta. È corretta. Ma vediamo poi cosa dice dopo, perché ci deve essere un secondo fine. E poi la Boldrini diventa sconcertata a questo punto. Dice così, stiamo superando persino i molto discutibili accordi per il contenimento dei migranti tra l'Unione Europea e la Turchia o la Tunisia o quelli ancora peggiori con la Libia. Qui si tratta di uno scambio di basso cabotaggio tra un governo che vuole entrare nell'Unione Europea e uno che ha un disperato bisogno di trovare una via d'uscita da un totale fallimento. Un accordo che non promette assolutamente nulla di buono, che assomiglia più all'ennesima mossa propagandistica sulla pelle dei migranti più che a qualcosa di vagamente sensato. Allora, il migrante, se va in un CPR in Italia, un CPR gestito da italiani in Albania, al migrante non cambia assolutamente nulla. Quindi non c'è niente sulla pelle del migrante, perché senza questo accordo il migrante avrebbe fatto lo stesso identico ITER. Non sarebbe cambiato assolutamente nulla. Il fatto è che questo accordo dovrebbe servire per far desistere le persone dalla partenza. Come dire, io parto, poi arrivo lì e mi mandano in Albania. Ma non cambia nulla, perché il migrante che arriva in Italia e viene poi rimpatriato è uguale al migrante che arriva in Italia, viene mandato in Albania e poi viene rimpatriato. Non cambia nulla. Ma andiamo a vedere il migrante che non può essere rimpatriato, perché se ci sono accordi con l'altro paese lo puoi rimpatriare. Se non ci sono gli accordi te lo devi tenere. Quindi arriva il migrante che può essere rimpatriato, abbiamo già visto, o che lo fanno partire dall'Italia o dall'Albania o che dall'Albania torna in Italia per essere rimpatriato, non cambia assolutamente nulla. Quello che non può essere rimpatriato cosa succede? Se in Italia viene aperta la porta e gli dicono vai pure, arrivederci. Se in Albania cosa fanno? Mica aprono la porta in Albania, lo portano in Italia con un aereo, scende dall'aereo e dicono arrivederci, bye bye. Quindi che cosa cambia da prima a un dopo accordi con l'Albania? L'unica cosa che cambia è che magari il migrante non sa bene che è la stessa cosa e dice, oh cavolo, mi mandano in Albania senza sapere che poi dall'Albania comunque o viene rimpatriato come dall'Italia o torna in Italia per essere lasciato libero di muoversi e andare dove vuole. Quindi l'unica cosa che questo accordo può fare è quello di tentare di far desistere dalle partenze qualcuno. È questo. Non è né di più né di meno che questo. Probabilmente farà partire qualcuno in meno. Non so se uno, dieci, cento, mille, diecimila, ma questo viene fatto per far paura a quello che sta partendo. Dice guarda che ti mando in Albania. Arrivederci a tutti e grazie.